Provincia, sindacati, imprenditori, lavoratori, quelli di Eutelia e Italtel, insieme a Palazzo Valentini per fare il punto sulla crisi economica che attenaglia le famiglie italiane e romane. Per il presidente Zingaretti è necessario un tavolo istituzionale per la definizione di un piano straordinario per il lavoro, ma dalla crisi ha detto ne usciremo solo cambiando. Non si uscirà con lo stesso modello di sviluppo, ma possiamo uscire con un modello di sviluppo migliore. Serve per questo grande concertazione, grande confronto, grande chiamata alla responsabilità e io sono molto contento e orgoglioso che oggi la provincia sia stata un luogo di confronto e di concertazione tra tutti gli attori economici e sociali. E l'importanza di fare squadra tra tutti gli attori economici e sociali è stata ribadita dall'assessore provinciale al lavoro Smeriglio, che ha parlato di una crisi che mette in difficoltà non solo le imprese, ma anche le persone e le loro famiglie. Bisogna assumersi a piena e male la responsabilità di provare a mettere insieme le energie e le risorse presenti sul territorio e di farlo con molta umiltà. La provincia può svolgere un ruolo importante, ma al pari del comune, della regione, della confindustria, dei sindacati, della CNA, della Federlazio, cioè provare a mettere insieme tutti questi soggetti e fare squadra.